Dopo Livorno è stato siglato anche a Firenze il protocollo tra regione, comune, città metropolitana e parti sociali. L'obiettivo del patto per Firenze è rilevare le necessità di formazione delle imprese del territorio e individuare gli interventi di formazione più mirati per avvicinare chi cerca lavoro a chi lo offre. Alla firma, nel palaggio di parte Guelfa, erano presenti l'assessore regionale a lavoro e formazione professionale Alessandra Nardini, l'assessore a lavoro e alla formazione del comune di Firenze Benedetta Albanese e i rappresentanti di città metropolitana, camera di commercio, sindacati e associazioni di categoria. Formare le giovani generazioni, di aumentare le loro competenze ma anche di riqualificare lavoratrici e lavoratori che magari si trovano momentaneamente fuori dal mercato del lavoro e hanno bisogno invece di poter acquisire nuove competenze, di riqualificarsi per poter rientrare nel mondo del lavoro e ritrovare un'occupazione. Quindi da questo punto di vista diventa davvero fondamentale la formazione insieme alle politiche attive devono essere davvero la leva per il rilancio della nostra economia. Dunque la regione toscana in questo spazio è importante perché ci aiuterà a veicolare le risorse in quelli che sono i settori ritenuti strategici, dialogando e quindi confrontandosi con il comune di Firenze che coordinerà questo tavolo al quale però si siederanno categorie economiche, parti sociali e comunque appunto in un protocollo aperto vedremo appunto come si potrà crescere affinché si contribuisca appunto a dare un punto di vista costruttivo per poter appunto realizzare e utilizzare la formazione professionale come leva bidirezionale. Il patto punta a mettere in campo azioni concrete per rafforzare la programmazione regionale degli interventi di formazione professionale con un costante monitoraggio della situazione occupazionale e di possibili crisi aziendali del territorio.